Il momento di approfondimento e di conoscenza anche perché molto spesso questi strumenti dalle imprese non sono conosciuti quindi il momento per mettere in contatto le imprese con i mezzi di comunicazione anche alla luce di questo provvedimento di incentivazione fiscale per gli investimenti su stampa, radio e tv locali molto importante per un settore che sicuramente in questi anni ha vissuto momenti difficili ma molto importante anche per le imprese, soprattutto le piccole imprese che magari hanno risorse o budget ridotti un'occasione molto importante per farsi conoscere, far conoscere i propri prodotti Il titolo stesso dell'incontro comunicare conviene? La risposta è assolutamente sì, gli interventi che ci sono stati soprattutto quelli delle testimonianze di aziende grandi, grandissime come poste italiane o anche medie o piccole dimostrano che assolutamente la strada della comunicazione della promozione e della pubblicità anche in senso stretto è quella giusta per assicurare sviluppo e crescita Grazie a tutti!